Poi dopo Latina, dopo aver fatto il comando di gruppo, sono stato mandato allo Stato Maggiore perché chi faceva l'Accademia Aeronautica, dopo avendo finito di volare, andava allo Stato Maggiore e lì ho fatto due anni allo Stato Maggiore di Roma, dove anche avendo finito non volavo più, praticamente facevamo un po' di ore di volo per ogni sei mesi, tanto per mantenere il brevetto, ma non si volava più e allora ho pensato di andare, di finire l'attività e andare a fare qualcos'altro e ho avuto l'opportunità di fare Radiomisure, Radiomisure perché c'era questo tipo di lavoro in cui cercavano dei piloti e io ho provato a fare concorso e l'ho vinto e sono entrato a Radiomisure. Radiomisure anche lì è stata un'esperienza molto particolare perché si andava in giro a controllare tutti gli apparati che usano tutti gli aerei praticamente, quindi stavo a Ciampino, all'aeroporto di Ciampino e l'ho fatto fino al 99, per 15 anni circa e andavamo in giro per tutta l'Italia e controllavamo le apparecchiature per la navigazione, per l'atterraggio, tutti questi così qua. Noi volando controllavamo tutti gli apparati di navigazione che usano tutti gli aerei, anche gli LS per fare l'avvicinamento, per navigare, i board, tutte queste cose qui le controllavamo e quindi poi volevamo, stavamo sempre in volo praticamente e lì ho avuto l'opportunità di fare anche altre cose oltre al volo. Per esempio quando andavo in Sicilia oppure nei posti di Sardegna mi portavo anche la muta e facevo anche la pesca subacquea, quindi era una cosa molto particolare, interessante anche. E poi finita Radio Misure fino al 2000 praticamente, nel 1999 quando sono arrivati i Canader a Ciampino, lì vicino dove eravamo noi, eravamo proprio coincidenti con Radio Misure e i Canader e la cosa mi stuzzicava molto, mi interessava molto, ho provato ad andare dai Canader, ho dato le dimissioni e sono andato sui Canader, mi hanno accettato e ho cominciato il periodo sui Canader, che è stata una cosa molto molto particolare, molto bella, molto impegnativa e anche molto, come dire, che ti coinvolge anche emotivamente. Quindi ho cominciato a volare sui Canader ed ovviamente all'inizio uno fa il copilota, poi quando è arrivato il tempo che ha fatto un certo numero di ore, un po' di esperienza, può cominciare a fare il corso per fare il comandante e poi lì praticamente con i Canader ci sono 5 basi in Italia dove ci sono i Canader, che sono Ciampino, poi c'è Olbia, poi c'è Genova, poi c'è Trapani e anche la Mezzia, dove ci sono divisi 4-5 Canader per ogni base per garantire tutta la nazione praticamente. Ma sui Canader è stata un'esperienza molto particolare perché come tipo di lavoro è un lavoro che dove sei tu che e devi decidere cosa fare, quando e come farlo. Per esempio, quando arriva l'impegno per il fuoco, la richiesta di antincendio, noi dopo mezz'ora dovevamo decollare, decollavamo e non sapevamo niente praticamente dal posto, arrivavamo sul posto, dovevamo fare la ricognizione, facevamo noi e siamo noi a decidere come fare l'intervento, se farlo, come e quando. E la stessa cosa anche per il prelievo dell'acqua, perché non c'è nessuno a terra che ti dice guarda che il vento viene da est, da ovest e così via. Noi invece facevamo la ricognizione e se eravamo noi a decidere se il mare era operativo oppure no. O poi dovevamo andare nel lago, che avevamo un numero di laghi ben preciso, dove avevamo tutte le informazioni, per andare a fare i prelievi dell'acqua. Quindi era un tipo di mestiere molto particolare, dove c'è poche informazioni, e sei tu che decidi come fare, dove andare e come farlo. Era un tipo di lavoro molto interessante, che ti coinvolge anche molto emotivamente. A me è successo anche di vedere gente che moriva, perché coinvolta e chiusa dall'incendio e dalle fiamme. Però non potevi fare niente di particolare, quindi più che sganciare l'acqua e cercare di fermare l'incendio, noi non potevamo fare altro. Quindi è stato un mestiere molto impegnativo, molto interessante, dove noi siamo anche stati richiesti all'estero, perché non tutti sanno che l'Italia ha il maggior numero di Canada che hanno i paesi, di tutto il mondo, che siamo stati richiesti di intervenire in Europa molto spesso, ma anche in Russia, per esempio, io sono stato in Russia, oppure in Svezia anche, poi non parliamo della Francia, della Grecia e anche della Spagna, dove siamo andati spesso noi. Era un'azione anche comune fra gli europei, tra i francesi, spagnoli e noi, che cercavamo di garantire tutta l'Europa, anche per prendere l'acqua, per esempio, per caricare l'acqua nei laghi. Ovviamente noi abbiamo un numero di laghi previsti per poter accedere, però quando tu arrivi sul lago, sei tu che devi decidere se la cosa si può fare o meno, se c'è il vento giusto, poi ci può essere glassy water pure, l'acqua da specchio. Quindi sono tutte procedure che uno deve fare, deve conoscere e deve mettere in atto. Quindi è un tipo di lavoro molto particolare che ti impegna emotivamente e anche molto fisicamente, però poi ti dà soddisfazioni enormi, perché quando poi uno vede che ha spento un incendio, ha salvato magari delle vite, oppure anche delle case e delle cose, è tutta un'altra cosa. Ci sono sotto l'aereo due probe, due bocchette così che vengono estese quando uno fa i controlli prima di entrare in acqua. Si entra in acqua a circa 80 km all'ora, anche di più, e quindi entrando in acqua poi, a pressione, l'acqua entra dentro, fino a 6.500 litri di acqua carichiamo. Poi quando arriva il limite uno lo ritira su e l'aereo comincia ad accelerare per uscire fuori dall'acqua, però cambia completamente il tipo di aereo, perché dopo con 6.500 litri di acqua sopra poi diventa molto più pesante e quindi bisogna avere molta pratica. Quando c'è lo schiancio dall'acqua l'aereo cerca di salire da solo, però non è un problema quello perché tanto va bene. Quindi uno lo deve controllare ovviamente per non stallare, perché se lo lasci andare su tutto sopra poi alla fine staldi. Quindi è un controllo che uno fa, non è un problema comunque. Per esempio in Russia, quando siamo stati impegnati in Russia per spegnere gli incendi, abbiamo prelevato anche l'acqua sul fiume Volga e questo è un video in cui io sono dietro, siamo in coppia e davanti c'è il collega e abbiamo fatto la ripresa. come vedete, adesso stiamo per toccare di entrare in acqua, entriamo in acqua, continuiamo a caricare, dopo circa 10-15 secondi, sono 6.500 litri, le probe vengono messe su e l'aereo esce dall'acqua, accelera e poi facciamo flaps a 10, flaps up e ci dirigiamo sull'incendio. Arrivando sull'incendio abbiamo fatto già la ricognizione prima di entrare in acqua, prima di andare a fare il carico e abbiamo deciso il modo per sganciare, per spegnere l'incendio, quindi una volta che siamo sull'incendio noi facciamo la traiettoria in maniera tale da spegnere, sganciare l'acqua a 50 piedi, 50 metri, a 90-110 all'ora e poi uscire per nuova via opportuna, perché sennò diventa un problema insomma. Per esempio a Sermoneta, fatto un incendio c'ero io, nel 2007 circa, c'era l'incendio, siamo arrivati a Sermoneta, fatto la ricognizione, era un incendio molto grande e quindi andavo a prendere l'acqua al mare di Latina, perché siamo vicini, era il luogo più vicino. Sono arrivato al mare, però le onde erano talmente alte per il vento che io non potevo, allora sono andato al lago di Fogliano, anche se non era previsto, però noi in caso di emergenza siamo come l'ambulanza praticamente, come la croce rossa, possiamo operare anche in posti dove gli altri non possono operare. E ho preso l'acqua lì, nel lago di Fogliano e poi ho fatto un certo numero di sganci, anzi molti sganci, più di 30 sul fuoco di Sermoneta. È stata un'esperienza bella, perché poi vedendo il video si vede che per caso c'era fuori l'amica, la figlia di un mio collega di ex di Latina, anche lui pilota istruttore, che aveva fatto delle riprese, il mio copilota aveva fatto delle riprese dall'interno e poi le abbiamo messe insieme abbiamo fatto un video per fare scuola, per insegnare agli allievi come fare, a sganciare, come fare, è venuta una cosa molto simpatica, molto bella. A terra quando siamo operativi sul fuoco, siamo collegati con i vigili del fuoco, dove c'è un signore che parla con noi, che ci dice cosa fare, anche come è la situazione, insomma. E quindi siamo sempre collegati con un operatore a terra, se c'è, perché ci sono degli incendi in cui non c'è nessuno, perché a me è successo in Sicilia, sulla montagna e non c'era nessuno lì, anzi c'era probabilmente quello che aveva piccato l'incendio, c'era una macchina con un individuo che io ho visto e poi io ho sganciato, ma non l'avevo visto proprio simmetramente, ma gli ho sganciato l'acqua sopra e non so che fine ha fatto, a dire il vero. Però poi, quando sono tornato successivamente, la macchina era sparita, quindi era andato via. È stata un'esperienza molto interessante per me e io non volevo nemmeno andare in pensione, perché avevo 68 anni, però non c'era il limite per legge, per fare quel tipo di mestiere, perché siamo due piloti, ci sono passeggeri, non c'è nessuno, quindi l'unico limite era il controllo medico ogni sei mesi, se uno stava bene poteva continuare. Invece i colleghi hanno rinnovato il contratto e hanno messo il limite di 65 anni e io ne avevo già 68 e sono stato costretto ad andare via. La cosa non mi è piaciuta molto, però era anche giusto così, perché c'è da fare posto anche a chi, ai nuovi. Anche se la società non piaceva molto il fatto perché perdere io ero istruttore ed esaminatore anche, quindi non è che lo trovava così facilmente uno come me, un altro per sostituirmi insomma, e quindi va bene comunque è andata così.